Cari cittadini, cari cittadini, sono qui per informarvi che il 6 di giugno in Consiglio Comunale approveremo il nuovo piano triennale delle opere pubbliche. Questo è uno strumento importante, perché all'interno di esso prevediamo una serie di opere di riqualificazione della città. Passo rapidamente dell'Encarbene. Penso alla Piazza Camandona, dove verrà rifatto tutta la pavimentazione stradale sia della piazza che il tratto iniziale di Via Torino. Penso al rifacimento della tinteggiatura del palazzo di Piazza Camandona. E penso ancora ad un'altra piazza importante per la nostra città, che è quella della zona Castello, appunto Piazza Aldomoro. Qui verrà fatta una riqualificazione molto bella, che renderà quel posto vivibile, appunto, non soltanto per i cittadini del quartiere, ma per tutta la città. Inoltre abbiamo pensato di avviare i lavori per la riqualificazione energetica del palazzo comunale e con essa andremo a rifare tutta la tinteggiatura delle facciate. Ci sono altre importanti opere, appunto, che prevediamo nei prossimi anni. Ci saranno due interventi di riqualificazione dei campi sportivi, quello di Via Prunot e quello di Via Berlinguer. Ci sarà un intervento notevole in termini finanziari di messa in sicurezza dei soffitti delle scuole. E, per ultimo, ma non per importanza, abbiamo intenzione per il 2020 di avviare i lavori di riqualificazione della biblioteca. Un luogo importante, un luogo non soltanto di cultura, ma è un luogo di socializzazione. Quindi, questo è il nostro impegno per la città, che vedrà, appunto, nei prossimi anni una trasformazione di questa comunità. Grazie davvero di cuore. Grazie a tutti.